Vogliamo esprimere la nostra soddisfazione, vogliamo ringraziare quanti ci hanno sostenuto in questo periodo di confronto, studio e proposte. Così il Comitato Alberi di Saione festeggia dunque il fatto che alla fine il Comune di Arezzo ha rivisto il suo progetto. Abbiamo deciso di recepire quelle che erano le criticità che ci erano state poste riguardo al taglio degli alberi e riguardo all'area verde che veniva diminuita rispetto a quello che è lo stato attuale mentre invece nel progetto che abbiamo proposto ieri nell'incontro con il Comitato abbiamo addirittura quasi duplicato l'area verde a disposizione mantenendo gli alberi attuali e portando da circa 400 metri quadri di area verde a oltre 700 metri quadri. L'impronta della piazza resterà quella che era quella prevista da progetto quindi di dare una vera piazza a Saione di dare importanza a quello che è l'unico oggetto di valore su quell'area ovvero la chiesa quindi la centralità della chiesa rispetto alla piazza mantenendo a questo punto il verde e tutto quello che poi dopo concerne anche la vivibilità di quello spazio. 3.200 le donne e gli uomini che hanno firmato la petizione. La vicenda di Saione, prosegue il Comitato, dimostra quanto è importante la partecipazione attiva dei cittadini che in questo modo possono intervenire su decisioni già prese e modificarne anche l'esito. Un'altra richiesta che c'era pervenuta era appunto quello di rendere l'area pedonalizzata maggior, fruibile soprattutto in sicurezza quindi mantenendo la strada attuale di via Trasimeno che poi si collegherà con quella via Guelf abbiamo eliminato quelle che sono le viabilità che intersecavano oggi e da progetto nella piazza in questa maniera siamo riusciti a dare una piazza completa che a questo punto rispecchia anche tutte quelle che sono le richieste che il Comitato ci aveva fatto. Grazie a tutti.